La rassegna stampa è stata offerta da I Sapori del Vallo, l'arte di fare la pasta. www.isaporidelvallo.it Buongiorno e bentrovate alla nostra rassegna stampa, andiamo a guardare le prime pagine dei quotidiani di oggi. Iniziamo con il mattino. Con dono a Ischia il governo KO, manovra invariata, sfida all'Unione Europea, asse tra PD e ribelli del Movimento 5 Stelle, sanatoria ristretta, Nunes e De Falco, espulsi dal gruppo. Intanto lettera a Bruxelles, passa la linea dura di Salvini e Di Maio, Conte e Tria invece vogliono trattare. Andiamo al commento. La rivoluzione giallo-verde tra i veti incrociati. E poi l'analisi. Con l'economia al palo, il bilancio si può rifare. È l'ora degli investimenti. Di taglio alto, Campania, max inchiesta sui rifiuti, decine di appalti sospetti, indaga l'antimafia Caserta, Briz, dal sindaco. La DDA indaga sul ciclo dei rifiuti, ipotizzando anche l'infiltrazione di ditte vicino ai clan, indagati dirigenti, tecnici e amministratori pubblici di Caserta, dove i carabinieri hanno perquisito lo studio del sindaco e altri comuni del casertano e del napoletano, oltre che delle società Campania Ambiente e Sapna. E poi il reportage, torre del Greco ridotta a discarica, i bambini costretti a stare a casa. Arrivano i turisti da tutto il mondo e affrontano la salita che porta al Gran Cono del Vesuvio. Da una parte la veduta mozzafiato del golfo, dall'altra cumuli di rifiuti che pure mozzano il fiato per l'odore e nauseabondo che emanano da mesi a torre del Greco e così ridotta ad una discarica. Ogni notte c'è chi dà fuoco alla spazzatura. Cittadini esasperati dicono i bambini li teniamo a casa. Torniamo sul centro pagina con il vertice di Palermo, mosca protagonista, strappo della Turchia. Libia c'è la stretta di mano ma la pace resta lontana. Le valutazioni registrate a caldo sul Summit internazionale di Palermo sembrano influenzate più dal infuocato clima italiano e dall'avvicinarsi della resa dei conti nell'aspro confronto tra il governo giallo-verde e la Commissione europea che dà un'analisi obiettiva sui risultati conseguiti appunto dal Summit. Rimaniamo sul centro pagina la trattativa intesa Brexit tra Londra e l'Europa. Nessun dazio raggiunta una bozza di accordo per la Brexit. Il testo è concordato per ora solo a livello tecnico ma sembra che non preveda alcun dazio prevista anche la tutela incrociata dei diritti dei cittadini ospiti arricchita dall'ok europea a un regime senza visti a patto che sia reciproco. L'accordo dovrebbe confermare il backstop comune per evitare confini duri tra Irlanda del Nord e Repubblica d'Irlanda. L'accordo sarà approvato dal governo britannico oggi contemporaneamente a Bruxelles. I 27 ambasciatori dell'Unione europea saranno riuniti. Di taglio basso, Carlo Giuffre padre affettuoso chiamava il lotto e gli orologi il racconto del figlio Francesco. Questa è la prima pagina del mattino, andiamo sulla prima pagina del mattino di Salerno. Analisi, ora si paga tutto. L'ASL scrive ai laboratori, tetti di spese esauriti anche per esami del sangue urine, nuovi disagi per i pazienti dopo il blocco delle altre prestazioni della diagnostica. Andiamo a vedere il nuovo stop agli esami di laboratorio. La telenovela sullo sforamento dei tetti di spesa per le analisi del sangue si arricchisce di una nuova puntata. Dopo il primo alt di metà agosto e l'immediato via libera, seguito da un nuovo stop and go, a inizio ottobre con l'impegno del governatore De Luca per un prosieguo delle prestazioni in convenzione fino a fine anno senza intoppi, giunge un nuovo blocco da parte dell'ASL di Salerno, che in una PEC in via Taieri ai centri privati comunica la nuova data di sforamento fissata per il 28 ottobre scorso. E poi le infrastrutture, strade al collasso, regione in campo, pioggia di milioni dall'agro al cilento. Da nord a sud, cercando di soddisfare un ampio mentaglio di esigenze, la regione Campania ha dato il via libera alle opere per la viabilità, mettendo sul piatto un programma ambizioso che coinvolge le cinque province campane. Andiamo avanti, di lato, omicidio, cade l'accusa, marra, torna in libertà, decisione del riesame, scatta l'interdizione, il medico indagato per la morte del giovane malato terminale. Poi l'udienza, scarano, lite sugli assegni, il PM, ho ricevuto carte false. Centropagina, il dossier violenze in classe dopo il caso Ogliara, insegnanti sottotiro, 66 aggressioni. E poi gli appalti e i rifiuti, Salerno, snodo della Maxi, inchiesta, gare pilotate sull'asse Napoli-Caserta, ispezione nella sede del Cite in via San Leonardo, finanze e noi acquisiscono documenti contabili. Due procure al lavoro sul ciclo dei rifiuti, quella di Napoli con i magistrati dell'antimafia e quella di Salerno. Decine e decine di perquisizioni delegate nel Napoletano e nel Casertano, i carabinieri del Noe, nel Salernitano e i finanzieri del nucleo di polizia valutare a Salerno, perquisizioni presso il Cite, il Consorzio Interprovinciale Trasporti Ecoambientali. Rimaniamo sul centro pagina con il caso Giuseppe ucciso a colpi di pistola, Giuseppe Marchesano ucciso a Montopoli in provincia di Pisa, il ragazzo di origini valdianesi, precisamente di buon abitacolo, sembra che ad ucciderlo sia stato un amico. Di taglio basso, Borsa Turismo, la cultura tra fascino e sviluppo, la manifestazione a Pestum da domani dal 15 al 18. E questo era il mattino, passiamo alla città. L'apertura Ospedali scattano i tagli del Ministero, disattese le richieste della Regione, da gennaio chiudono i punti nascita nei plessi di Polla e Sapri, salvo Vallo della Lucania, i sindaci del Vallo di Diana e del Golfo di Policastro in rivolta e torna l'incubo degli esami a pagamento. Centropagina con la fotonotizia, servizi gratuiti al cimitero, con Gregi arriva il conto e poi il processo, Monsignor Scarano così donai 60 mila euro per San Gregorio VII. Andiamo di lato, ambiente, Fonderie Pisano, c'è l'ok per la ripresa, viabilità, le luci nel caos, protestano i vigili, movì da sigilli al modo, decide il giudice. E ancora, Ebboli, cade l'accusa di omicidio, Marra torna in libertà. Pagani, non vuole pagare per un tatuaggio, viene accoltellato, scafati, affari con i clan, il pentito fatto russo, in guaia, gli aliberti. Di taglio basso, il racconto l'umanità della gente, Ascanio Celestini, martedì sarà ospite del Festival Berniero, che si tiene ad Ebboli, attore, regista e scrittore, porterà storie, contro storie, lo spettacolo Improvvisazione, che mette insieme vari racconti, con l'accompagnamento del musicista, Gianluca Casadei. Questa è la prima pagina del quotidiano, la città. Andiamo su cronache. L'apertura. La crisi della movida, giovani salernitani si trasferiscono a Cava, la città sempre più deserta e locali vuoti. Vincenzo Montefusco dice, serve un nuovo slancio, lo freddo chiami a raccolta, gli imprenditori. Spostiamoci sul centro pagina. Chiesto il processo per il giudice Pagano, il fratello Carmine Rainone, altri 20 sentenze e favori, si indaga anche su due centri privati, si decide l'11 gennaio. Poi Ebboli non fu omicidio volontario, liberato il dottor Marra, la decisione del Tribunale del Riesame. Centro pagina, la vicenda a Forlì, tangenti e corruzione, spunta una municipalizzata di Salerno, tre arresti e cinque indagati, c'è anche un funzionario del Mise. Di taglio basso, Polla e Sapri, niente più parti del medico, impossibile la chiusura di un centro con 265 nascite, contestata la scelta del governo, si indagate all'attacco, pronti i ricorsi. E infine Nocera Inferiore, campionato nazionale di Pizzadoc, vince il pizzaiolo Luigi Greco di Torre del Greco. Questa è la prima pagina del quotidiano Cronache. Andiamo in Basilicata con il Roma. L'apertura verso il voto, ecco il cavallo di Troia Saraceno. Il centrodestra potrebbe compiere lo stesso errore fatto con De Luca a Potenza. salgono invece per coerenza le quotazioni di Cannizzaro e Fratelli d'Italia Attacca Moles, definendolo inadeguato. Sotto la testata, ladri forzano due posti di blocco, un militare ferito, non si esclude che i malviventi possano essere precipitati dal viadotto Scescio, i carabinieri sparano e loro si danno alla fuga a piedi sulla Potenza Melfi. Centropagina con lo Sport, il derby di Serie C dopo l'inchiesta del Roma sui biglietti per Potenza Matera, la questura interviene e blocca la prevendita. Di lato, i dati Istat, meno morti sulle strade lucane nel 2017, la metà dei sinistri notturni è nei fini settimana. Picerno, bloccati 700 mila euro per la strada provinciale 83, il sindaco aspetta la sentenza del Tar. Lago Negro, dopo le denunce i fari dello stadio sono ok, Piro, abbiamo sgominato la banda. E Appendino Lucano, a Biusi il ministro può già sostituire Fogliano con uno della Terna che ha. Di Taglio Basso, regionali, data del voto e panico tra i dem, Valvano, portavoce dei Timorosi, dice a maggio, intanto in Leo, Folino brucia pure Perri. E infine il flash mob a Potenza, non ci metteranno il bavaglio, insulti dei 5 stelle alla stampa, la protesta dei giornalisti lucani. E questa era la prima pagina del Quotidiano Roma con cui termina la prima parte della nostra rassegna stampa. Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. Bentornati in studio per la seconda parte della nostra rassegna stampa. Continuiamo con le pagine del mattino. Andiamo a vedere che succede in provincia di Salerno. Partiamo con la sanità. Analisi mediche, ora si paga tutto, stretta dell'ASL, salta la deroga, la scura e colpisce anche gli esami del sangue e urine. Federlab riparte all'attacco. Parla di deficit, di programmazione. Dunque c'è un nuovo stop degli esami di laboratorio. La telenovela sullo sforamento dei tetti di spesa per le analisi del sangue si arricchisce di una nuova puntata. Dopo il primo alt di metà agosto e l'immediato via libera, seguito da un nuovo stop and go a inizio ottobre con l'impegno del governatore De Luca per un prosieguo delle prestazioni in convenzione fino a fine anno, senza intoppi, giunge un nuovo blocco da parte dell'ASL di Salerno. Sono stati raggiunti dunque tetti di spesa, ora stop, coperture e nessun rimborso alle strutture accreditate. Rimaniamo sulla sanità, sempre su questa pagina. Polla e Sapri chiudono i punti nascita, primi vagiti solo a Vallo della Lucania. Ed è polemica, ci sono state diverse reazioni. Il presidente della comunità montana Vallo di Diano, Raffaele Accetta, chiede alla Regione e al Ministero di aprire immediatamente un tavolo tecnico per CGL Cisle Will. C'è un piano che non tiene conto delle specificità territoriali e delle caratteristiche orogeografiche di queste aree. Interviene anche il presidente del parco, Tommaso Pellegrino, così si penalizzano le famiglie. Intanto tutti i sindaci sono impressi, chiedono che la Regione ci ripensi. lasciamo questa pagina. Passiamo alla scuola, docenti, sottotiro, 66 aggressioni, tra botte e insulti, la prof schiaffeggiata ad Ogliara, ultima spia di un allarme crescente, in balia di genitori e studenti si è perso il principio di autorità. Quattro aggressioni fisiche in due anni e mezzo, almeno 62 attacchi verbali e minacce registrate in meno di un anno scolastico per una media di 6 violenze verbali al mese. Ormai il lavoro del professore è in trincea e lo certificano i dati che arrivano dalle presidenze scolastiche del Salernitano, suffragati da quelli dell'amministrazione scolastica provinciale. Da un lato a campione che riguarda 20 scuole superiori e medie, risulta che i professori siano finiti in un vortice di violenza mai registrata in passato. Si offende più spesso il professore nel suo ruolo di educatore e formatore. Accade in classe, ma più in generale negli ambienti didattici. E sempre su questa pagina c'è un'intervista a Franzese che dice sono caduti i valori educativi ma gli adulti protettivi danneggiano i figli. La dirigente dell'ufficio regionale dice Seguo con apprensione la vicenda di Salerno mai abbassare la guardia. Il ministero valuta la possibilità di costituirsi parte civile nei processi al fianco degli insegnanti mai smettere di dialogare ma ai ragazzi va detto chiaramente che va rispettato chi siede in cattedra. Queste le parole della dirigente dell'ufficio regionale. Andiamo avanti. Mobilità strade al collasso pioggia di milioni da Cava al Cilento tutti gli interventi cantierabili finanziati dalla regione Campania. Nocera arriva la maxirotatoria da Quara lavori alla via del Masso da nord a sud da nord a sud cercando di soddisfare un ampio ventaglio di esigenze la regione Campania ha dato il via libera alle opere di viabilità mettendo sul piatto un programma ambizioso che coinvolge le cinque province campane. L'investimento è cospicuo 1 miliardo 230 milioni di euro soldi che arrivano da fondi europei e regionali complessivamente l'importo è superiore si parla di 2 miliardi 300 milioni interventi che interessano tutta la provincia da nord a sud in particolare vediamo che cosa succede a sud della provincia di salerno pioggia di milioni anche per l'area appunto l'area sud del comprensorio alburni calore qui emerge come in altri casi che alcuni interventi sono sinergici ed elaborati insieme tra tutti gli amministratori la comunità montana alburni l'ente provincia la regione tanto da far dire a diversi amministratori locali che uniti e compatti il territorio cresce e porta a casa risultati importanti andiamo ora a Pagani Bottone squadra prevoto il PD entra in giunta la femmina promosso vice varato il nuovo esecutivo il patto con i democrat sancito dalla nomina di Marrazzo uomo di riferimento di calce Scafati Palamanga non eri pagati ora le compensazioni Cava dei Tirreni Mediateca sul percorso a rischio crolli la messa in sicurezza costa 11.000 euro Angri non c'è spazio per i rifiuti ecoservizi lite e denuncia Sarno impianti di biogas monitorati dal CNR spesi 40.000 euro i risultati non arrivano Scafati operaio schiacciato da una lastra di 380 kg a processo il titolare dell'azienda e un tecnico spostiamoci a Battipaglia 10 anni al matricida pentito a Caraccio riconosciuta la semi-infermità mentale strangolò l'anziana in camera da letto dopo una lite vittima e carnefice soffrivano di disturbi psichici lui dopo il raptus chiese perdono volevo solo zittirla Ponte Cagnano Faiano sottopasso la sfida di Sica per riaprirlo serve coraggio Eboli giro di cocaina all'ingrosso 3 le condanne e poi buon abitacolo Giuseppe assassinato dall'amico di infanzia andiamo a vedere tristezza e cordoglio a buon abitacolo per la tragedia che ha colpito la famiglia Marchesano ovvero l'uccisione di Giuseppe originario del Vallo di Diano ma cresciuto in Toscana e in Toscana è stato assassinato con sei colpi di pistola probabilmente da un amico e quanto stanno ricostruendo gli inquirenti il padre Enrico vive a buon abitacolo ed alcuni giorni è nel Pisano per seguire le indagini e capire cosa possa essere accaduto e proprio ieri c'è stata la svolta nelle indagini e infatti un amico di infanzia il presunto autore dell'omicidio di Giuseppe Marchesano trovato ucciso sabato sera nel suo appartamento di Montopoli in provincia di Pisa e rimaniamo su questa pagina Atena Lucana studentesse incensurate rubano abiti in boutique cinque arresti nel Vallo di Diano da carabinieri e polizia quattro riguardano i militari dell'arma guidati dal capitano Davide Acquaviva si tratta di tre giovani studentesse taccheggiatrici un pusheri carabinieri di Teggiano comandati dal maresciallo Pennisi hanno preso in flagranza di reato tra i diciottenni del territorio incensurate in un centro commerciale di Atena Lucana le giovani dopo aver prelevato alcuni abiti dagli espositori si sono recate nei camerini per provarli rimuovendo con un coltello a serramanico i dispositivi antitaccheggi occultando nelle proprie borse ma sono state sorprese e sottoposte agli arresti domiciliari il quarto arresto sempre ieri sera è stato eseguito dai carabinieri di Sassano guidati dal maresciallo Sirsi nella rete un 23enne del posto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e infine Bellizzi spacciatore in trasferta preso al posto di blocco queste erano le pagine del mattino passiamo ora al quotidiano cronache in primo piano troviamo un appello ridiamo slancio alla movida salernitana sono convinto che Dario Loffredo si farà carico di creare un tavolo con gli imprenditori Marco Montefusco si è espresso sulla questione movida e locali che sta tenendo banco in queste settimane e appunto Marco Montefusco spinge all'incontro istituzioni e imprenditori per far sì che la movida salernitana riprenda slancio e vigore confrontarsi e vedersi per il gioco salernitano è necessario motiva lo scarso flusso di persone per le vie del centro il fine settimana a causa del basso numero di posti auto disponibili lasciamo questa pagina i fatti dalla regione traffici di rifiuti tremano gli amministratori comunali nel mirino illeciti condizionamenti delle funzioni pubbliche il procuratore Melillo rende noti gli obiettivi delle indagini sulla gestione del ciclo integrato in Campania la procura di Napoli sta indagando su presunti traffici organizzati di rifiuti realizzati nel quadro di una vasta e ramificata attività di illecito condizionamento delle funzioni pubbliche deputate alla gestione del ciclo dei rifiuti in Campania e in particolare alla gestione degli appalti dei servizi di raccolta trasporto e smaltimento affidata alle cure delle amministrazioni comunali lasciamo questa pagina la sanità chiudono i punti nascita di Polle Sapri e guerra del medico impossibile la chiusura di un centro con 265 parti dai due comuni del golfo di Policastro e Vallodidiano si alza la voce per l'inconcepibile scelta del governo e appunto Polle e Sapri sul piede di guerra la mancata deroga al funzionamento dei punti nascita dei presidi ospedalieri da parte del governo offende la dignità di due comuni che vedranno famiglie residenti costrette a far nascere i propri figli altrove un altro colpo al cuore della provincia e di una sanità fin troppo mortificata andiamo avanti con Battipaglia festa degli alberi il sì battipagliese dalla penna scelta della scuola domenica dalle 10 il comune capofila della Piana del Sele partecipa all'evento nazionale ancora Battipaglia cacciata dal treno vuole suicidarsi sui binari salva e poi Ponte Cagnano investe un ciclista si indaga e caccia all'automobilista andiamo avanti con Eboli assessore eroe ad Eboli salva salva la vita ad un tredicenne e poi il retroscene i guai di Lardo arrivano a Guidonia prime polemiche nel Lazio per il funzionario indagato summit a tre fra il sindaco e i fratelli troppi problemi ad Eboli elezioni alle porte a Gorà a Grillini antiadelizi c'è divisione anche nei 5 Stelle in località Cioffi un altro romeno ubriaco provoca un incidente grave un settantenne e Bolitano Passiamo a Capaccio Laboratorio politico la nuova sfida a Palumbo di Pagano pronta la conferenza stampa per venerdì poi la cronaca nel Vallo di Diano a Sassano blitz antidroga preso un 23enne per detenzione spaccio di stupefacenti invece ad Atena Lucana prese in tre rubavano in un centro commerciale di taglio basso comune a buon abitacolo il comune presenta un progetto di ristrutturazione della scuola amministrazione attiva e poi Agropoli strada cilentana all'ANAS serve ancora qualche mese un temporaneo stop per l'ITER burocratico e queste erano le pagine del quotidiano cronache con cui termina la nostra rassegna stampa vi ringrazio per la cortesa attenzione vi auguro buona giornata la nostra rassegna la nostra rassegna